Benvenuti ragazzi bentornati in questo nuovo video Io sono Vali E bentornati sul canale Bentornati in un nuovissimo video Di vlog Allora ragazzi Oggi Fantasmetti è Una bellissima sorpresa Per chi vi farò vedere Gli addobbi Miei di Halloween Cioè che cosa ho addobbato Nella casa Ma prima di iniziare Dovete iscrivervi al canale Attivare la campanella E lasciare un bel like Bene iniziamo Allora qua sulla porta Abbiamo Allora ho un bellissimo Aspetta ho zoomato Troppissimo Allora c'è la zucca Là Ecco Perché? Ok è così E insomma c'è la zucca Allora c'è la zucca E quindi c'è la zucca E poi c'è lo scheletro Ma perché zoom Zoom così tanto Poi c'è il bellissimo scheletro Poi Vum 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 Poi ci sono I palloncini ancora Le devo fare Perché le farò lunedì Poi Devo scherzare Il dolce Scherzetto Poi Ah C'è una zucca Poi ci sono Altre zucche E altre zucche Di là Quindi ecco Un video breve E ciao Al prossimo video E a tutti Tutti Il y a Dobby Grazie a tutti